Dunque volevo dire che oltre all'appello al voto, soprattutto sull'immediata eseguibilità e a dichiarare nuovamente il voto favorevole su questa delibera, volevo rassicurare tutti quanti perché so che la mia dichiarazione precedente rispetto al fatto che le procedure per la riassegnazione saranno comportate tutte a termine è dovuta al fatto che so perfettamente che si sta lavorando su questo fronte e quindi vi annuncio anche che presto sarà fatta una commissione per aggiornamenti sul lavoro che si sta portando avanti proprio su questo tema delle riassegnazioni. Grazie Presidente.